Gentili telespettatori, buona giornata. Il piano di alcuni nel centro-destra sui balneari, in particolar modo di Maurizio Gasparri, a bando le spiagge libere non funziona. E' una semplice legge economica che adesso andrò a spiegarvi. Se lo scopo reale è davvero quello di favorire la concorrenza sul mercato, allora una nuova soluzione, fare una mappatura del demanio costiero italiano, individuare le aree non ancora occupate e infine metterle a gara, senza così dover distruggere le imprese già attive, le quali con il lavoro di anni hanno contribuito allo sviluppo del turismo del nostro paese. Così Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, da sempre vicino al settore balneare, va dritto al punto della questione concessioni, ponendo al centro del dibattito una possibile chiave di volta, che poi non funziona, per la risoluzione del problema. La mappatura delle coste La mappatura del demanio costiero è una vecchia questione, peraltro già prevista dalla legge sulla concorrenza, fatta da Draghi. Fare una mappatura significa fare una verifica ufficiale, precisa ed omogenea dello stato delle nostre coste, che ricordo sono ben lunghe 8.000 km, e stabilire quanta porzione demanio costiero marittimo, fluviale e lacustre è occupata e quanta invece è libera. Con una mappatura si andrebbero a individuare tante aree non ancora occupate, al fine di metterle a gara per i nuovi operatori. Cioè da una parte permetterebbe lo svolgersi di una vera concorrenza, e dall'altra salvaguarderebbe le migliaia di imprese balneari già attive, le quali con il loro lavoro costituiscono la spina dorsale del turismo italiano. Infine, in questo modo si potrebbe dimostrare anche quella delle coste non sia affatto una risorsa scarsa, come molti sostengono, cosa che farebbe decadere automaticamente l'applicazione della direttiva Bolkstein, la quale si basa proprio sul principio della scarsità. E allora, parliamo del principio della scarsità, delle coste, eccetera, eccetera. Oggi ci sono un certo numero di concessioni, dove i balneari pagano delle cifre, nella gran parte dei casi simboliche, 2000 euro all'anno, dove hanno su ristoranti, bar, sdraio, pedalo e delle entrate economiche notevoli, con una concessione dal costo simbolica. La scarsità. La scarsità ti dà poi una sorta di asta. Sono poche, io le metto all'asta, chi offre di più ha la concessione. L'Italia è tutta coste. Però, se ci sono, ipotizziamo, dieci concessioni, lì, non lo so, prendiamo un posto qualunque, diciamo, non so, Ostia, Roma, ci sono dieci concessioni, faccio un numero così a caso, e quei dieci concessionari guadagnano una certa cifra. Se tu dici, allora raddoppio le concessioni, prendo tutte le spiagge libere che ci sono lì, e le metto tutte a pagamento. Creo nuove concessioni. Non è che le persone raddoppiano, o i turisti raddoppiano, se metti più spiagge a pagamento e meno libere. Le persone sono sempre quelle. Se prima andavano, non so, 5.000 persone in dieci stabilimenti, oggi quelle 5.000 persone, se raddoppi le licenze, quelle 5.000 persone le devi distribuire, se si distribuiscono, nel doppio degli stabilimenti. Quindi, l'idea di Gasparri, di dire, prendiamo le spiagge libere, e le mettiamo all'asta, e abbiamo risolto il problema, diciamo che come soluzione fa acqua. Fa acqua. Perché i turisti sono quelli. Se tu raddoppi, è un po' come al supermercato, che tu dici, ho solo tre tipi di fagioli. Eh, ma ci sono altri fornitori che vogliono entrare, come facciamo? Eh, falli entrare. Mettiamo sei tipi di fagioli, al posto che tre tipi. Ma chi compra fagioli è sempre quel certo numero di persone. Quindi quel fatturato si va a dividere non più su tre aziende che vendono fagioli al supermercato, ma si distribuisce in sei aziende. Ne vuoi mettere nove, il fatturato si distribuisce in nove aziende. Poi c'è anche tutto un problema di concorrenza. Se hai un prezzo concorrenziale legato a una certa quantità, se le quantità diminuiscono, quel prezzo concorrenziale già decade. Questo in quest'ottica. Pertanto il fatto di dire lasciamo quelli che hanno le concessioni, li lasciamo così, li lasciamo stare e mettiamo all'asta altre spiagge. Poi non puoi fare due sistemi differenti. Questi che hanno le concessioni sono dei privilegiati, pagano solo duemila. Se tu vuoi quell'altra spiaggia, io adesso la metto all'asta. Se liberalizzi, il settore deve essere libero per tutti. Se non lo liberalizzi, deve essere chiuso per tutti. Quindi, se fai altre spiagge a pagamento, devi fargli pagare quello che pagano gli altri, quelle concessioni simboliche. Se liberalizzi, non puoi... No, questi li lasciamo lì che sono una casta, mentre ne apriamo nuove. Secondo voi, l'Europa può accettare un sistema liberalizzato in questo modo, cioè una finta liberalizzazione? Metto altre spiagge magari lontane dal centro abitato che non se le calcola nessuno perché non puoi fare 8000 chilometri di coste tutto con concessioni balneari perché che senso ha? Ci sono spiagge sperdute dove non ci arriva e non ci va nessuno e non ci andrà e non ci andrebbe nessuno. Pertanto c'è lo stabilimento balneare di fronte al centro della cittadina che è quello storico che fa un sacco di soldi con delle concessioni balneari simboliche e poi c'è quello in periferia fuori città dove lo metti all'asta e lì c'è un'asta dove ci sono poche persone che vanno quasi nessuno e quello in centro invece rimane tutelato e paga quella cifra simbolica. Caro Gasparri capisco che tu voglia tutelare questo settore però non funziona così quindi è una proposta che ho già sentito no? No ma mica togliamo le concessioni o mettiamo all'asta quelli che ci sono apriamo altre spiagge alla concorrenza ovviamente non può essere accettata una cosa del genere perché non ha senso la legge deve essere uguale per tutti non ci possono essere concessioni di serie A e concessioni di serie B per far finta di liberalizzare il mercato è chiaro Gasparri? Eh? Arrivederci a tutti